Villas che deve fare miracoli per aggiudicarsi un piccolo quindici. E' ricominciata la maratona. Una palla un po' più corta potrebbe servire a Villas, non ce la fa più Villas, è volutile dallo scambio secondo me adesso. Borg è impassibile, non viene a rete, forse adesso, ma neanche. E qua è veramente impressionante. Per notare quanto altro imbalzi la palla di Borg. Era quasi scivolato Borg, pure è riuscito a ritornare sulla palla. Come fanno? Come fanno? Nessuno che è fiata. Ma ragazzi, è una cosa che non si era mai vista su un campo da tennis onestamente, perché non è che si sono messi d'accordo. Borg è rompere gli indugi. Poi si ricomincia. Passa questo diritto di Villas, ma sono colpi sempre più corti quelli dell'argentino, ma è da 5 minuti che palleggiano, ragazzi. Eccolo qui a rete Borg. Credo sia uscita, ma non di tantissimo.